Buonasera a tutti, oggi è giovedì 16 aprile, mi scuso con chi in questi giorni si aspettava qualche video di aggiornamento da parte mia, purtroppo c'è stato, o per fortuna, molto lavoro, ho finito molto tardi nelle sere scorse, non sono riuscito a registrare, anche se ho cercato di tenervi aggiornati quanto più possibile, non è successo nulla di particolare e per questo vi confermo che anche oggi non ci sono nuovi casi positivi, a trarre in inganno potrebbe essere la piattaforma regionale che è stata resa pubblica e disponibile a tutti, quindi sul sito della regione è possibile andare a vedere i casi positivi comune per comune, nel nostro comune vengono segnalati 26 casi, però così come dall'inizio dell'emergenza oggi, questo dato è sempre stato falsato da tutta una serie di errori tecnici e o informatici, vi confermo che i casi a trino non sono 26, ci vengono caricati casi di positività di residenti a trino ma che in realtà non vivono più qui, quindi i casi positivi sul nostro territorio dall'inizio dell'emergenza oggi sono 18, quindi non preoccupatevi, in questi giorni non è cambiato assolutamente nulla e di questo devo fare i complimenti ovviamente in primis a tutta la popolazione per il comportamento e in secondis anche alle forze dell'ordine che ovviamente hanno fatto un ottimo lavoro di controllo, di monitoraggio, di spiegazione a tutti quanti i cittadini. Detto questo ci avviciniamo al 3 maggio, si parla in questi giorni di questa famosa fase 2, dobbiamo iniziare e lo deve fare ovviamente la politica ad andare incontro a quello che è una possibile ripartenza a partire dal 4 maggio, ciò significa che da qui al 3 maggio dobbiamo prepararci e attrezzarci a convivere con il virus, dobbiamo farlo senza abbassare la guardia perché sarebbe un errore, siamo in una fase di coda, di miglioramento, i dati ci confortano in questo senso, ma dobbiamo farlo con uno sforzo di grande responsabilità e ovviamente di lungimiranza. Non possiamo aspettare passivamente il passaggio di questo virus, i laboratori e la parte scientifica stanno lavorando a tutte le procedure, in attesa quindi di avere il vaccino dobbiamo cercare di poter farci trovare pronti per poter ripartire in sicurezza, motivo per cui a partire già da questo sabato, quindi dopo domani, riattiveremo una parte del mercato, lo faremo in maniera sicura, lo faremo in Corso Cavour dall'angolo del semaforo, quindi con Corso Italia all'angolo con Piazza Garibaldi, l'accesso sarà possibile per un solo componente per nucleo familiare, quindi se ci si reca in due si è passibili anche eventualmente di multa, oltre che dover ritornare indietro, l'accesso al mercato sarà da Piazza Garibaldi e l'uscita sarà sotto il semaforo, quindi si entra da un lato e si esce dall'altro. Sul luogo ci saranno ovviamente forze dell'ordine e volontari che oltre a misurare la temperatura di coloro che accedono al mercato, l'area sarà ovviamente tutta transennata, verificheranno anche e regolamenteranno gli accessi, sarà possibile accedere per una quantità pari al doppio del numero dei banchi presenti, i banchi presenti sono 10, quindi potranno accedere al massimo 20 persone per volta, una persona entra soltanto quando sarà uscita l'altra persona dall'altro lato. Quindi cerchiamo di riattivare un servizio, di ridare la possibilità ovviamente anche ai mercatali che lavorano e hanno bisogno di lavorare, di ritornare al lavoro, lo faremo però con tutte le cautele del caso. Quello di questo sabato sarà un esperimento, quindi vi chiedo a maggior ragione di avere la massima accortezza, con i mercatali ci siamo già confrontati e loro sono preparati e sono pronti. Chiedo a voi di fare altrettanto uno sforzo di grande e massima attenzione, sono certo che la responsabilità intrinseca in ognuno di voi farà sì che tutto andrà per il meglio e quindi di poter poi proseguire anche col mercato del mercoledì e del sabato delle settimane successive a poter proseguire e ad aggiungere ai banchi alimentari anche quelli dei produttori agricoli, che al momento non abbiamo potuto inserire per questioni di sicurezza e di spazio, ma cercheremo di farlo già a partire dal mercato di mercoledì della prossima settimana. In aggiunta a questo, questa settimana abbiamo organizzato di concerto ovviamente con il plesso scolastico, quindi con la dirigente, con le insegnanti, col personale ATA e la protezione civile e i volontari anche la riconsegna del materiale didattico che era rimasto a scuola. Quindi è stata emessa una circolare, so che le insegnanti hanno già informato i capi classe o comunque i genitori sulle modalità, ci tengo a ribadirlo, la distribuzione avverrà lunedì 20 aprile e martedì 21 aprile, ci sono degli orari prestabiliti, ogni classe deve recarsi, ogni genitore e anche in questo caso un genitore per alunno dovrà recarsi all'orario indicato abbinato alla classe dell'alunno. Cercheremo nei limiti del possibile per quei genitori che hanno più di un figlio all'interno della scuola in classi diverse di consegnargli comunque tutto il materiale in un'unica volta. Il genitore dovrà recarsi alla prima ovviamente occasione utile, quindi faccio un esempio, se lunedì 20 aprile ho il figlio che fa la quinta B e dovrò recarmi dalle 8 alle 8 e 30 e ho un figlio che invece frequenta la terza B e dovrebbe andare martedì 21, mi reco lunedì 20 aprile tra le 8 alle 8 e 30, ritiro per mio figlio che fa la quinta B e comunicherò che ho anche un figlio in terza B e chiederò di avere il suo materiale scolastico. Se non si creeranno assembramenti, se tutta la macchina funziona alla perfezione, cercheremo di consegnare tutto. Diversamente vi chiediamo, visto il grande numero comunque di studenti che accoglie il nostro istituto comprensivo, di portare pazienza nell'eventualità di tornare all'orario e al giorno prestabilito per ogni singolo figlio. Ripeto, cercheremo nei limiti del possibile di non farvi muovere di più e quindi di consegnarvi tutto il materiale in un'unica occasione. Queste sono un pochettino le comunicazioni di aggiornamento delle novità e delle cose che saranno in campo nei prossimi giorni. Stiamo continuando la distribuzione dei buoni spesa, siamo arrivati a 111 famiglie, facciamo grazie all'assessore vice sindaco Borgia una notevole lavoro, una mole di lavoro importante di scrematura rispetto alle richieste che ci vengono fatte e che vengono avanzate. Stanno arrivando altre domande che valutiamo ovviamente di settimana in settimana. Il plafon investito in questa partita, come sapete, era inizialmente di 43 mila euro, implementato di altri 10 mila del comune che abbiamo suddiviso settimanalmente. Molti di voi si stanno e si comportano correttamente, ci sono persone che hanno avuto i buoni spesa e che mi stanno comunicando in questi giorni ottenendo la cassa integrazione piuttosto che il bonus dei 600 euro, ci stanno comunicando che non ne avranno più l'esigenza e le lasciano magari a persone che invece ce l'avranno. Resta comunque fermo che ci sono altri soggetti che invece continuano a fare richieste e avere pretese anche se non ne hanno pienamente diritto. Ripeto, noi cerchiamo di fare la miglior scrematura possibile, però sta anche al vostro buonsenso e al capire che dobbiamo cercare di aiutare più persone possibili che si trovano nell'effettiva esigenza di avere questi buoni spesa. Non mandateci richieste, domande se siete già percettori di reddito di cittadinanza che vi permette di vivere, se siete già percettori di pensione o di altre forme di sostentamento che vi permettono di vivere. Fatelo solo ed esclusivamente se vi trovate in uno stato di reale ed effettiva esigenza comportato dalla questione del coronavirus. Quindi se siete anche già seguiti dai servizi socioassistenziali, Monica e Simona che seguono le famiglie e sono le nostre assistenti sociali, sono a vostra disposizione e le potete contattare. Detto questo, l'assessore Gualino di concerto con OCT sta seguendo invece tutta la parte ovviamente legata ai commercianti e al commercio per il ritorno dei buoni spesa. Devo dire che c'è stato un utilizzo abbastanza regolare, non ci sono state grossissime anomalie, ma continueremo e continuiamo certamente a controllare. La prossima settimana è la settimana anche che ci porta al 25 aprile, è una manifestazione molto sentita giustamente da tutti quanti, non si potrà svolgere in maniera canonica. D'accordo con Ampi nella giornata del 25 aprile, una ristrettissima rappresentanza del Comune di Ampi sarà presente per commemorare e onorare la giornata, è una giornata che è sinonimo di libertà, di liberazione. Lo so che è una parola magari difficile da dire in questi giorni quando invece la libertà di tutti noi è stata limitata attraverso dei decreti ma per preservare la nostra salute. Ma oggi possiamo dire che siamo nelle condizioni di poter combattere, di poter lottare, forse proprio perché nel nostro DNA c'è il DNA di quei combattenti, uomini e donne italiani e alleati che ci hanno aiutato a liberare l'Italia durante la guerra e hanno aiutato a ricostruirla subito dopo guerra. Lo stesso DNA, la stessa forza, la stessa volontà ce l'abbiamo bisogno adesso. Stiamo combattendo una guerra contro un nemico invisibile, dobbiamo combattere per riottenere la nostra libertà, lo facciamo con strumenti tecnologici molto più avanzati di allora ma sicuramente con rispetto ad allora una coscienza in più di un'esperienza che 75 anni fa ormai ci ha portato oggi ad avere un sistema molto migliore rispetto ad allora e che sicuramente ci condurrà fuori anche da questa emergenza. Ricordiamoci che siamo italiani, ricordiamoci che siamo i primi che ci siamo accorti di questa grandissima emergenza che poi ha colpito tutto il mondo, siamo i primi che l'abbiamo affrontata e sono certo che con grande forza saremo quelli che a partire da non appena sarà possibile saremo quelli che con la più grande forza riusciranno ad uscirne. Uniti si vince e questo è il nostro motto aggiornato rispetto al 25 aprile. grazie a tutti voi